Chiedete al giudice dove è mia mamma? Più volte familiari di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Carafello scomparso ormai due anni fa, avevano riportato la richiesta fatta dal figlio Lorenzo. Il ragazzo, un 25enne con problemi di disabilità, non ha mai smesso di chiedere della mamma ed adesso potrebbe entrare nell'aula della Corte d'Assise in una delle prossime udienze del processo che vede come unico imputato padre Graziano. Più volte Lorenzo ha manifestato questa volontà di essere presente appunto in udienza, mi è stato riferito anche dai nonni di Lorenzo. Valuteremo questa opportunità, sarà abbastanza difficile che accadrà oppure vedremo se con le dovute cautele Lorenzo potrà entrare in udienza. Chiaramente dovrà essere tutelato dai giornalisti e tutto, insomma è una cosa che valuteremo. Intanto nel corso dell'ultima udienza del procedimento giudiziario per l'omicidio di Guerrina Piscaglia dopo l'audizione di padre Silvano è entrata in aula una delle figure chiave di questo giallo, zio Francesco, l'uomo con cui secondo l'imputato la cinquantenne sarebbe scappata. Un personaggio ritenuto pura invenzione dall'accusa. Il maresciallo sudico chiamato a deporre dal PM Marco Dioni in aula ha ricostruito le ricerche del fantomatico ad oggi zio Francesco, indagini che non hanno portato però a nessuna identificazione. Nessun cinquantenne nordafricano con un tatuaggio e con una macchina grigia si sarebbe infatti trovato a Caraffello la mattina del 1 maggio 2014 e poi a Sestino il pomeriggio dello stesso giorno. Potrebbe essere una persona completamente diversa dal chiamarsi Francesco, potrebbe essere un appellativo fornito casualmente per l'occasione proprio per nascondere la vera identità. Si possono verificare svariate ipotesi di lavoro. Il maresciallo surico ha poi demolito quello che viene ritenuto un tentativo di depistaggio del frate congolese, l'allontanamento volontario della casalinga con l'ambulante di Gubbio. Il religioso inoltre aveva il numero del marocchino in questione ma non lo mise a disposizione degli inquirenti. Altro particolare emerso dalla consultazione della rubrica dell'imputato e portato alla luce nel corso del dibattimento è indubbiamente l'eliminazione di alcuni numeri di telefono. Padre Graziano infatti avrebbe cancellato alcuni contatti dalla sua rubrica, quello di Guerrina, quello della signora Mazzone e del marito Burioni, quello di Dawit Tades ed infine quello di padre Ocheche, il religioso a cui quel primo maggio 2014 arrivò l'ormai famoso sms. Il fatto che abbia cancellato questi numeri e questi nomi chi lo ha detto? Lo ha detto il maresciallo surico il quale dice semplicemente di aver letto la rubrica di padre Graziano però stranamente non ha fotografato questa rubrica, non ha trascritto come ha fatto invece la volta successiva i numeri e i nomi nella rubrica. Noi abbiamo un dato oggettivo dal quale non possiamo replicare e dal quale non possiamo difenderci, cioè il fatto che il maresciallo surico abbia detto lì c'erano questi numeri. Intanto è attesa per lunedì la decisione della Corte d'Assise sull'istanza di annullamento della misura cautelare depositata mercoledì scorso dai legali del frate congolese.